Ho fatto gli auguri di buon lavoro, poi siamo anche confidati delle cose personali, delle valutazioni, però insomma quello che era importante, a me piace essere una persona seria, se il risultato c'è lo riconosci, non è che fai finta, mannaggia a diavoletto che ci ha fatto litigare. Poi c'è il tema grande della sanità, il lavoro, sul lavoro dobbiamo cercare di capire come si può rimettere in moto la macchina, io qualche idea ce l'ho, se l'ascolteranno in consiglio se l'avvantaggeranno i cittadini.